www.adaptor50.com Ciao! Dopo me è l'Adaptor 50, la famiglia più compatta dell'Adaptor, una macchina che tratta 50.000 capsules per l'ora, circa 14 capsules ogni seconda. L'Adaptor è un'unica soluzione, trattando circa tre prodotti diversi, insieme. Potono essere di powder, pellet, tablet, mini tablet o liquido. Ciò che fa l'Adaptor è la flessibilità della macchina e la dosi e la città della città della città della città. Vediamo un po' di diversi modi che possiamo rilasciare una capsule. Le prodotti di combinazione sono trendiche. Quindi, una capsule che contiene un prodotto immediato combinato con un prodotto di rilasciamento, è una opzione. Un prodotto immediato di rilasciamento può anche essere combinato con un prodotto di rilasciamento. Queste sono le mani di aiutare i pazienti a raggiungere un complianco. Una capsule al giorno è più facile da ricordare che una di ogni ogni ore. Qui c'è una capsule dentro una capsule dove due droghe sono stati separati per evitare interazioni non vuole. Il mini tablet che contiene l'API può essere immersato in liquido per evitare l'oxidazione e prolungare la vita del prodotto. Questa capsule contiene un API liquido più una capsule rosa con un altro API. Inoltre, hanno bisogno di restare separati perché dei problemi di compatibilità. La capsule trasparente potrebbe anche contenere un API solido. Un fattore importante quando rilasciare la capsule con più di un prodotto è di ottenere il peso e la proporzione giusto. Usando il rilasciamento di rilasciamento moltiplici uniti di rilasciamento, l'Adaptor 50 ha ottenuto precisioni ultimi. Questa capsule è rilasciata. Poi è rilasciata con il primo prodotto e aspettata di nuovo. Una volta rilasciata con il secondo prodotto la capsule è aspettata una volta. In questo modo le proporzioni sono costantemente sotto controllo e possono essere rilasciati se necessari. Questa stazione ha una scala di gravimetica controlla la capsule senza ridurre la velocità di produzione. L'advancede hardware e software possiede una grande quantità di metadata ogni millisecondo. l'Adaptor 50 basa sul potere B&R APC3100 e usa 3 cannelli Ecopus P3 per compagare il spazio. Con B&R integrata la tecnologia di sicurezza una sola connessione per il PLC e la logica di sicurezza semplificano e ottimizzano il cable link. Il FIBAS funziona con un tempo di ciclo di 400 microsecondi e in una connessione connessione tra i dati per i motori I.O. e la sicurezza. l'automazione ha semplificato l'automazione dell'automazione perché tutto è integrato in un unico programma per rendere DATAPT50 potente, compagno e modulare tutti i sistemi di automazione sono posizionati dentro la macchina. Tutti questi aspetti hanno confermato la scuola di B&R come una parte strategica di queste macchine. La partnership IMA-B&R ha iniziato a sviluppare una soluzione che prende la flessibilità e la sicurezza a un nuovo livello. e la sicurezza a un nuovo livello. e la sicurezza